Grazie prontissima per un nuovo video McBank a vostra grandissima richiesta perché l'ultimo che abbiamo fatto, quello del sushi, mi avete chiesto questa cosa di fare McBank con la pizza quindi sto aspettando Dario che viene ho la mia collana Carlita Jewelry e anche gli orecchini Carlita Jewelry con la luna, i nuovi, bellissimi comunque come potete vedere il naso si è sgonfiato molto e si sta ancora sgonfiando considerate che adesso che state vedendo questo video sono 20-25 giorni che mi sono operata quindi neanche un mese e l'effetto già è molto naturale nell'altro video McBank delle sushi molte persone hanno detto che io sembravo un porcellino ma perché il naso era, cioè me l'avevo fatto tipo da 10 giorni siamo pronte qua per fare il video McBank prima di questa grande abbuffata che adesso faremo un introito di carboidrati molto molto grande quindi per non perdere la nostra forma fisica andremo a prendere le carb blocker e questo qua è un consiglio che io vi voglio dare veramente con tutto il cuore ragazze queste sono delle capsule naturali che bloccano l'assorbimento dei carboidrati quindi se dovete mangiare fuori o comunque congettervi una pizza o una colazione in albergo io me le porto sempre dietro e adesso le prenderemo io e Dario ne prendiamo due, un quarto d'ora prima del pasto ragazze sono favolose, non hanno effetti collaterali, sono naturali e quindi vi permettono di mangiare grandi quantità di carboidrati senza ingrassare domani invece prenderemo le pur caps queste qua sono quelle che ti aiutano invece a sgonfiare l'addome quindi io queste qua le prendo tutti i giorni, sono favolose e regolano anche l'intestino, sono detox quindi super detox favolose e vi lascio il mio codice sconto che è Carlita Dolceventi sul sito Natural Mojo ragazze vi metto nel box info i link ai miei prodotti preferiti perché io con questi prodotti Natural Mojo veramente mi trovo benissimo ormai sono anni che le utilizzo e in particolare queste due ve le straconsiglio comunque tutti i prodotti sul sito, io l'ho provato quasi tutti ve li straconsiglio Carlita Dolceventi è il codice, avete il 20% di sconto quindi approfittate adesso speriamo che vi viene Dario perché ho una fame terribile e non vedo l'ora di scenare Ciao ragazzi, ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video Mook Bang con Dario dato che vi è piaciuto tanto quello del sushi siamo qua con la nostra pizza e vi invitiamo tutti alla pizzeria Peperoncino a quarto di un nostro amico, nostro caro amico Mario a quarto in provincia di Napoli è bravissimo e la pizza la fa buonissima eh, si tiene anche la sala eh eh, è uno sponsor fatto col cuore perché se lo merita grande Mario prima di iniziare ci vendiamo le nostre cups avremmo dovuto prendere un quarto d'ora prima vabbè, siamo in ritardo comunque agiscono comunque due card blocker come vi ho detto così Dario non mi ingrasta mettiamo il cartone sotto no, questa è la mia però come c'è questo? si, c'è questo, c'è questo amore, ah bello ma certo diamo questo se no non si vede si vede? ragazzi si vede? una bellissima pizza allora abbiamo patatine e viustel prosciutto, mozzarella, funghi e prosciutto margherita e marinara quanti amore? chiuso la pizza quale mangiavo prima? marinara la mia marinara sto d'accordo con il mio amore a me piace molto buona grande mario ma ve lo sapete raga che io ancora adesso non so quando vedete di preciso questo video perché li carico sempre dopo un po adesso 25 giorni postrino plastica più o meno io ancora quando mangio sento un fastidio e tutto il naso addormentato perché sia normale con mangiare piano che buona ogni tanto mi affogo sondaggio mi piace se la pizza la mangiate con le mani o con la forchetta quanti 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 amore un metro un mezzo di pizza in due vabbè a me come vedo la manezza ragazze controllatelo a prendere la manezza la pizza va mangiata devo guardare adesso l'abbiamo fatta qua amo ma che la manezza e che ne so io no 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 vabbè ma che ne sapevo che non ce l'avevi cosa che ne sapevo che non ce l'avevi farlo con la voglia di maionese vabbè questo da me fa male ma se me l'hai trovato a parte questo è scaduto la mossa di ketchup è proprio scaduto fa un culo ora hai messo un po' d'acqua quale mangiamo ora questa? margherita margherita vabbè mi mangio prima questo perché vi fa troppa culo questa con le patatine patatine e plus ragazzi qual'è il vostro gusto preferito di pizza? su un po' di sale non fate caso io sono proprio così cioè questo non è un video macban è un video di noi normale io mi alzo sempre amo prendere la coca però la prova è asciutto quando la coca zero se no mi ingrassate eh si e soprattutto questa è la pizza light poiché le patatine non fanno venire abbastanza cellulite ci mettiamo anche un po' di sale per aumentare perché a noi piace la cellulite vero amore? mio amore proprio si eccida con la cellulite si com'è bello mangiare com'è bello mangiare com'è bello mangiare ragazzi comunque ragazzi noi magari sono mezzanotte il nostro ultimo video macban ha superato le 100.000 visualizzazioni quindi adesso dobbiamo arrivare al 200 guardatelo tutti i giorni a proposito di questa cosa questa ragazza praticamente ci ha chiesto oh ma dovete che non usavi i porchetti e i cortelli cosa? dovete che non usavi i porchetti e i cortelli e poi ci sono mangiato con le mani tu sei niente la vuoi comunque l'hai usato chiamo a mario ci dico mario portami la maionese quello me la porta lo devo scommettere che me la porta se mi ami mamma piglia la maionese ma guardi eh vuoi il pezzo di mangià non mi ama non mi ama proprio comunque ragazze paziente questo video una ragazza ce l'aveva chiesto ah mi ha messo d'acqua e mi ha detto che al prossimo video macban fatelo con una bella pizza napoletana l'abbiamo accontantata e voi parlate un po' anche degli haters che spesso commentano ma si vede? no si che spesso commentano nei video soprattutto in questo video in questi video macban sono sempre molto criticati diciamo che a me non piace molto parlare ma allora facciamo un video perché ti piace si infatti a parte che non ce ne può fregare però noi cioè a me piace parlare molto delle cose tipo di dire che si fa perché alla fine poi gli da importanza a me non importa delle persone che mi amano beh non mi frega ragazzi seguiteci e qualche volta vi diamo qualche follower a mangiare la pizza da Mario vai vai no vabbè mio amore si è spaccato le tue cose allora praticamente dovete sapere che youtube e internet un po' è diventato un po' lo sfogo e tutte le persone frustrate imbecilliche nella vita non valgono niente e si sfogano su internet quindi io ormai sono dieci anni che sto quasi dieci anni che sto su internet quindi ormai ci ho fatto il caso non li considero proprio più però una persona che magari sta iniziando a fare i video ci può rimanere male per i commenti e le cose fregatevene cioè alla fine sono cioè sono persone che se ne incontrate nella vita sono persone con cui voi non socializzereste mai perché se non sapete quelle persone un po' avete capito no? 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 quindi alla fine questi cavoli non li considero proprio però uno deve fare la tua strada non mi devono limitare nel vostro percorso cioè non dovete dire ah questa cosa non la faccio perché cioè io ho sempre fatto quello che mi pareva e piaceva infatti molte ragazze mi hanno apprezzo dico ah a prescindere da tutto cioè perché non ti devi fare cioè se tu scelgi di non fare una cosa ok ma non perché gli altri ti criticano tu non lo devi fare noi ci divertiamo lo facciamo piace a molte persone a noi piace soprattutto a noi quella è la cosa importante e poi la cosa buona mangiare dobbiamo ringrazio dobbiamo ringraziare a loro che ci fanno mangiare tutti fate questo poi se ci vogliono ancora più ragazze vi prego nel prossimo video macbag ma non ti mangiare anche la mia no infatti la tua non ti mangiare facciamolo con una cosa isti facciamo un isti macbag è leggera è leggera però quello qua ho messo anche ho parato i cetroni con i granberi le light qualcosa light qualcosa di rischi ci deve stare mamma questo sto in due due no perchè? e non la voglio perchè? è perchè sta fatta a te quella mamma io sta fatta a te tu ci hai messo pure il sale no no non c'è fondo di sale no no mangiatele tu comunque ragazzi prossimo video macbag mi commentate una cosa isti se volete pupi 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 la pizza scusate anzi grazie a questa cosa che mi fa male sto mangiando un po' più piano e delicata perchè se no mi strafogherei il mondo però veramente mi fa male quando oh ma si la vediamo questa è la nostra pizzeria pizzeria vabbè io se avessimo la pizzeria penso saremmo obesi saremmo falliti ma è me sempre che ci facessimo già punire pizza brah la pizza al tavolo ah no date una fai una fai una fai non si mangi comunque ragazzi prossimo video macbag commentate nei commenti pupi cosa abbiamo già una cosa isti magari se volete una cosa isti carita style vi faccio anche approfitto per vedere qualche ricettina stile costo il mangiato scegliete voi non è vero bene questa sola date pure una pizza pupi si mangia la pizza si vedi pupi pura stava dormendo pupi avete visto? si è sbagliata non è vero quando si tratta di mangiare non so che mi sembra mi ha preso da te oggi e Dario abbiamo ridicato si è ridicato noi facciamo non ridiciamo mai proprio ahahahahah che sei comunque questo qua l'ho comprato oggi a volo a volo ho fatto due o trecento euro da così a volo a volo da come si chiama sto volo? boh davvero molto carino anche economico però se compri tutto il negozio come me la fiata ragazzi pupi va avanti e indietro la cosa qua questa volta un po' di pizza pizza pupi comunque ragazzi allora ma direi che abbiamo ridicato cioè ridicato noi ne abbiamo ridicato però è alicia ah ho venuto l'aglio è alicia ho già detto che Dario non mi ama che è scortese cioè Dario è un santo la persona più buona del mondo grazie capito davanti alla videocamera no no non viene fuori come realmente perché lui in realtà è uno schiavo se trattate gli uomini da schiavi perché quello meritano di essere schiavi amore questa vuole questa questa ok non questa ragazzi trattate la donna con un fiore ah Dario è molto non scherzare scherziamo ma Dario è molto cavaliere è molto mamma mia ci manca solo il cavale ragazzo speciale anche io però io sono speciale piccola mattina si può rontare nei videomacco bello amore mi chiedo questa cosa mmm comunque questa pizza è buonissima Mario portoci la pizza Mario facciamo due ha detto Mario ma quante ne siete? ha detto Mario due due che valete per quattro no no questa qua come mi piace per tutta la mozzarella il mozzarella il primo follower che va da Mario una pizza in omaggio dai cosa importantissima chi va da Mario e dice scusate mi manda Carlita e Dario avrà lo sconto si lo paghiamo noi vi offriamo noi una pizza uno sconto che gli farà Mario mmm va bene però devi dire mi manda Carlita e Dario eh certo vediamo quanti ne siete chiederete da Mario e poi vedete anche la sala non guardiamo nessuna percentuale sulle pizza di Mario no 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 è brava andate la in sala vi vedete mi manda Carlita e Dario è come buona mmm il Dario è una persona molto buona la vogliono bene tutti vediamo come si fa ad odiare uno con questa caccia? è proprio buono è anche io sono buona anche lei è buona quando dormi quando dormi neanche mmm ma io come tutte le donne sono un po' più peperina peperina un po' più vipera vero amore? si allora io sono buona se voglio essere buona se voglio essere cattiva sono cattiva e ti frusto ti amo ti frusto ahahahah ahahahah dici la vedete che tu mi baci piedi no me li lavi si si amore si 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 amore ma cosa fa? a me come me a me piace tantissimo l'uovo schiavo l'uovo schiavo l'uovo schiavo l'uovo schiavo l'uovo ragazzi a lei ci piace l'uovo schiavo io veramente ragazzi io per esempio tante donne no? dicono sempre quando un uomo diciamo è stronzo no? e comunque come si dice ti tratta male ti fa soffrire tu lo ami di più ehm c'hanno c'hanno un sacco di ragazzi che ci hanno detto per me non è messo da così nella mia vita cioè io ho proprio gli stronzi quelli che si atteggiano quelli che se la tirano tutti infighettati o poi magari escono con te poi dopo escono un altro e poi io l'ho mai filati questi gamberetti sono buonissimi guardate come si fanno a mangiare ahahah eh stiamo a mangiare comunque io non ho mai filati questi qua eh? non ho mai filati perchè questi che si atteggiano sicuri di loro che ti trattano male beh a me se mi tratti bene devi dire se ti amo mi credo se mi tratti male no io sono proprio il contrario quindi a me piace proprio l'uomo che è dolce passionale che ti fa sentire una regina che è proprio anche un po' succube un po' martire vedi vedi un po' succube un po' martire beh 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 che tipo per esempio fa quelle cose plateali oppure si dispera piange si taglia ahahah scherzo veramente però mi piace così cioè me devo sentire amata ah si vai così si amore quale vuoi da queste tre ah amore scusami fammi capire perchè qua sto in svantaggio ho mangiato più di me è vero? no questa è tua allora se io mangio questa tu mangi di questa eh no questa no questa ecco è buona e questa c'è a me bene c'è due cetrioli due cetrioli Mario io il prossimo video pack ve lo farei col pollo allo spiedo con le patate noi il pollo allo spiedo lo mangiamo molto spesso mi piace moltissimo c'è nella nostra ottima cosa è perché è pollo però poi ci mangiamo pure la pelle sì poi ci vorrei pure le patate eh papà non è poi ci mangiamo pure la pelle quindi alla fine la pelle da pollo prese dei figli di petto di pollo ah ah è buon ci serviva ah buon buon il basetto non si mangia ahah non è troppo estibile ah amore vabbiamo per la mianese è rimasta troppo male cioè come si fanno a mangiare le patatine senza la mianese ah non è oggi dovevamo fare la dieta dovevamo poi abbiamo letto questo commento e io ho detto mamma ho capito ho detto questa ragazza calita il prossimo video fatelo con la pizza e lui ha detto mamma lo vado a fare pizza io stavo cucinata vabbè dopo ci mangiamo pure il gelato mmm no mamma che dico no no ma già cambiamo andiamo alla gelateria vai mmm mmm peccato che non ci sta la mianese guarda tengo un po' la mianese ma non è buona signora prendi un po' di mianese ah mi vuoi si Dario vieni vieni la prende eh ma c'è la fina fronte guarda 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 un po' di rosaria ah mmm 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 ma tu vieni ma come si deve fare con gli spaghetti ma basta adesso mangia sempre con le mani ma guarda eh ha fatto dopo dove hai visto il film eh a me a me mi spesso un po' di capelli no questo è qua ah 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 mmm no 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 schiavo no tu te la me la schiavo anzi domani fai la lavatrice a me ha visto grazie ma che fine l'ho fatto no 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 domani vanno a lavare la macchina che era io dovevo andare a far ruggire o dal barbine no non dovevo andare a far ruggire scherzava mamma un battitino no no è che quella di pezzo non è pezzo ah quella fa grassare no la pezzo no no vedete come si deve essere la coppa la salute di tutti i nostri follower di copri i minibacchi ci vedremo quando? No, spesso ci vediamo, faremo una rimpatriata, rimpatriata di follower, ma ma mi stossi i capelli, ma ma è tagliare, Fondaggio, taglio o non taglio i capelli, lo voglio tagliare, io vorrei fare la frangetta, c'è questo desiderio, Poi devo aspettare a piangere, me lo va pure, no, ci ha fatto il guai, amore, sai perché? Eh, non hai tovergogna a dire questa cosa, che cosa? Che cosa? Raffaella Carrà? No, io fino a quando ero piccola, ero un maschietto ragazzi, no, Sì, ero un maschietto, lo dico io, ma che volte faccio vedere la fotografia di Carlita ragazzi? Era Carlito, è Carlitone, stai dicendo a me? No, allora, c'è la fotografia che sta salendo sul muretto, No, no, tipo la foto, che il muretto sta dicendo, ma guarda se ne va di sacco, era un po' cezzottina quando ero piccola, Era 80-90 anni, ma non è vero! Penso che a casa una volta non trovano più la tavola, stai facendo di Carlito! Comunque ragazzi, fino a quando ero piccolina, ero, mi è sempre piaciuta la frangetta, proprio sempre, però non l'ho mai fatta, o l'ho fatta forse una volta, ma vi giuro, mi stava malissimo perché si vedeva tutto il naso orrendo, usciva tutto col piccone, eh, però io ho il viso lungo, quindi la frangetta, io penso che mi sta bene, il problema è solo il naso, e adesso sono un po' tentata da farmela perché secondo me mi sta bene, e poi per il riscatto del fatto che io l'ho sempre mutata quando ero piccola questa frangetta, non me la sono mai potuta fare colpa di questo naso, adesso me la vorrei fare, però mi piacerebbe avere la frangetta e i capelli lunghi, poi magari dopo me li taglio, che dite, la faccio questa pazzia? No, invece io quando ero piccolino, i capelli a casquette la dinotancia, ma no, veramente, non ho la vette, ho perso i capelli, no, no, è vero, amore, ma prima che ero proprio la dinotancia, la dinotancia non le facevo così, è vero, ma rabbia, no, ma raga, ti giuro, dobbiamo fare troppo un video, amore, me stai registrando, che non si faccia? Sì, ha fatto un video dove vi faccio vedere le foto da piccoli, le mie ma soprattutto quelle di Dario Beh, io ero bellissima ovviamente Vabbè, questo lo devono giudicare loro Ah, è bellissima Dario anche era bellissima Dario era una femmina Era una femmina Cioè, credetemi, a me la mamma mi ha fatto delle foto Io non ci rido e ho detto no, voi mi state prendendo in giro Perché era una femmina Con i capelli a caschetto La mamma me lo mette la femmina Era un vestitino po' a bianco Il vestitino russo E c'era una festa in Calabria Ieri vestita la donna E forse piace Hai detto niente, i capelli biondi a caschetto Era una bellissima bimba Sì, tutti voi dicono Vabbè, una volta quando Non lo devi fare Una volta quando Sì Nel periodo quando ci stavamo mettendo insieme Che noi diciamo eravamo ancora amici Ancora non stavamo amici Comunque Lui una volta che lo stavo un po' giù Così comunque si travestì da gay Perché lui aveva le parrucche, no? Al negozio E si mise questa parrucca Che dava sopra un manichino L'ho presa Era rossa Capelli lunghi rossi Comunque sì Sì, questa parrucche fece la parte del gay Ma lo stavo morendo Un po' di carri napolecane Eh, non vuoi fare? Perché? Dobbiamo rispettare a tutti i gay Vabbè, perché mica manchiamo di rispetto? Eh, non lo voglio fare No, vado a fare Vabbè, non mi mancano di rispetto No Ma quella è un'esaggirazione Non esistono i gay così Sì, amm, è una cosa che per ridere Ieri tu sei Però, giuro, amm Non me lo faccio morire Non morire, non sono solo È veramente una femmina Va bene, amm? Sì È il senso di una frase Ritornerò Allora E non mi? Ma fa proprio po' Ah, fa proprio po' Ah, fa proprio po' Ah, fa proprio po' Ti è sciuto il cucchile Ti è sciuto il cucchile Sì Vabbiamo Vabbiamo Vabbè, questa è la parte della prima Vabbè, buo Ti è sciuto il cucchile Che? Ah, fai Vabbè Vabbè, ma non c'è mai il cucco Vabbè 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 Sono mezzanotte bitta Ma no Vabbè 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 Mezzanotte e venti Noi stiamo mangiando E poi c'è la zuppa e latte Era buono Ah È stata buonissima Per tutto È stata buona perché Non era prevista No come cosa Bravo Però non mi mangiavo la pizza Raga Questo è il più buono della pizza Delle patatine Che è mia Sì 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 Dove devi mangiare pure questo Ma questa è una challenge Un metro di pizza Non è una McBank Sì Sì McBank Ah Che fritta Non lo sai dire se c'è McBank 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 Sì Per me Sì Noi Non lo sai È la mia Che cosa? Ma questa Ah Ma lo sai questo. Lasciamo le nostre cuore, abbiamo messo la scartola, non è voluta. E poi stavate invitiamo anche loro, andiamo a fare un video con qualche follower, va bene, ci siete, ci state, ci saremo. Pupi scatta, una cena, tutti insieme, veramente, ci dobbiamo fare, all'arena di Veruna, se li mettiamo all'arena di Veruna ci entriamo, quante persone può contenere l'arena di Veruna? 10 mila, di più, 100 mila, no, 50 mila, a me siamo a 400 mila su YouTube, mi metto qualcosa pure fuori, ma facciamo entrare, facciamo i cambi, mezz'ora alla volta. Mamma mia, abbiamo finito, sto scoppiando, adesso dobbiamo chiudere questo video, non per qualcosa, perché dobbiamo fare rutini, come fanno nei video mukbang o macbang a non fare rutini? Buttini e scorreggine? No. Sì, che la fa le scorreggine? Ma mai fatemi la mia, facciamo pure la parte di me. Ragazzi, chiudiamo questo video. Mi voglio raccelerare, la vostra rita è che fa male l'aso. Speriamo che questo video sia piaciuto, a mare mia, speriamo che... Amore, che fai di pulisci? Ragazzi, mettete i pollici in su. Ragazzi, mettete tanti pollici in su, se vi è piaciuto questo video, tanti pollici in su per Dario, tanti pollici in su per la pizza. Io sono troppo venita in questo momento, perché sono tipo ubriaca, le carboidrati, che vivo il cibo. Ci vediamo al prossimo video. Vigio. E dateci un'idea per il prossimo video, un mukbang. Polpette e mukbang. Spaghetti con polpette. Spaghetti con polpette. Mi davrà un petto. Spaghetti con polpette, io voto spaghetti con polpette, fatemelo sapere voi cosa votate. E vi amiamo tantissimo, grazie per aver guardato questo video, grazie di cuore. Ah, ma quando te lo guardo? Ah no, te lo guardo ora. Ora. Adesso, te lo guardo. Adesso te lo guardo. Ciao. Ciao, sono venuti tra le telecom. Fai. Ui, guarda. Ragazzi, abbiamo un follower che ci sta registrando. La fatte dire anche tu, la vina, la vina. Vina, la vina. Vina. Vina, la vina, la vina. Vina, la vina, la vina. Vina, la vina, la vina, la vina. Vina, la vina, la vina, la vina, la vina. Ciao a tutti. Ciao. Ciao amore. Ciao amore. Ciao ciao. 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 Ciao ciao ciao. Grazie a tutti.